30 eventi tra giugno, luglio e agosto, suddivisi in 5 categorie, musica, teatro, cinema, libri e danza. Un cartellone eventi che parla di cultura a tutto tondo. Sono questi i numeri di Restate 2021, il programma degli eventi culturali che il Comune di Foiano, in collaborazione con le associazioni locali, ha organizzato per l'estate 2021. Con questo festival che vuole celebrare tutto il settore artistico fortemente colpito dalla pandemia, il Comune di Foiano ha come obiettivi quelli di far tornare i foianesi a vivere le loro piazze e i propri borghi, accogliere i turisti ma allo stesso tempo anche dare un forte impulso al comparto commerciale e della ristorazione. Restate, il Festival della ripartenza di Foiano della Chiara che vede la collaborazione di tutte le associazioni ma anche dei ristoratori per riportare i foianesi ed accogliere i turisti nell'estate 2021. Sì, un programma molto ampio, tante iniziative, più di 30 tra giugno e luglio e agosto, organizzate assieme a tutte le associazioni culturali di Foiano, insieme alla Proloco, insieme all'associazione commercianti. Insomma, c'era tanta voglia di ripartire, c'era tanta voglia di fare iniziative. Noi abbiamo cercato di creare questo contenitore che durerà per due mesi e mezzo più o meno a questo punto e siamo contenti di aver creato soprattutto un bel programma dove associazioni del territorio e ospiti nazionali si susseguiranno quasi tutte le sere nelle piazze di Foiano. Ecco, il calendario prevede e coinvolge tutte le arti, dal cinema al teatro, la musica, la danza. Anche questo comparto in pandemia è stato fortemente penalizzato, quindi Foiano cerca con questo programma di aiutare anche questo importante settore. Sì, infatti abbiamo anche cercato di fare questa cosa, questo progetto. Quelle soprattutto che sono state le categorie più massacrate in questo anno e mezzo, quindi tutte le maestranze della cultura, il commercio, abbiamo cercato di rimetterle insieme. Non sarà facile ovviamente, non sarà questo che toglierà tutte le problematiche che ci sono, però insomma cerchiamo di far ripartire, soprattutto di rifar vivere ai foianesi Foiano, più come e anche più di prima.